Ci sarà anche l'ex governatore Mario Oliverio nella corsa alla presidenza della regione Calabria. La decisione è stata ufficializzata con un comunicato del coordinamento dei comitati Oliverio Presidente. Anche in Calabria in politica si legge nella nota, non tutta a un prezzo, la nostra è innanzitutto una battaglia di dignità e di libertà al servizio degli interessi politici del popolo calabrese. Per quanto ci riguarda, su di noi e sulle nostre scelte di stare in campo in maniera autonoma nella prossima competizione elettorale regionale decideranno esclusivamente gli elettori. A loro e a nessun altro, continuo il documento, affidiamo il nostro destino politico e la scelta di porci come forza radicalmente alternativa a tutti gli schieramenti in campo. Su questa base i partecipanti alla riunione che si è tenuta al Reggio Calabria hanno chiesto a Mario Oliverio di formalizzare la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Calabria nella prossima competizione regionale. A tale richiesta, si legge, Mario Oliverio ha sciolto positivamente la riserva annunciando che nelle prossime ore terrà una conferenza stampa.